Venerdì 20 ottobre 2017. Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di oggi quotidiano con la nostra rassegna stampa. Mattino 6 che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro delle quattro edizioni. Iniziamo con quella di Pescara. Il titolo principale riguarda una vicenda spiacevole che riguarda un insegnante di una scuola di Pescara che è stata arrestata, schiaffi ai bimbi, maestra arrestata ai domiciliari, un insegnante di 64 anni dell'elementare di Zanni, accusata di maltrattamenti agli alunni. E poi vediamo a centro pagina, si parla ovviamente del tour del leader del PD, del segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi, che ieri è stato in Abruzzo nella nostra regione. L'Abruzzo detta l'agenda a Renzi. Vedete la foto a centro pagina. Gli immancabili selfie del segretario ex premier del Partito Democratico con alcuni cittadini a Pineto, prima tappa del suo tour abruzzese di ieri. Vediamo anche gli altri titoli. Nelle cronache, Rigopiano in arrivo un'ondata di indagati, protesta ieri dei familiari delle vittime dinanzi al Palazzo di Giustizia di Pescara, nel contempo i legali dei familiari delle vittime, hanno incontrato il procuratore della Repubblica di Pescara. Restiamo a Pescara, tassa sui rifiuti scoperti, 70 evasori totali. E poi doppiosi in commissione commercio al mercatino etnico, che dovrebbe sorgere, usiamo il condizionale, nella zona della stazione centrale, in uno dei tunnel della strazione centrale. Altri titoli della prima pagina del centro, piani di emergenza, denuncia del Movimento 5 Stelle, vedete di spalla, fuori legge, 220 comuni, lo dice l'esponente, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Poi si parla di ristoranti, perché Nico Romito, chef stellato abruzzese, è tra i cinque re degli chef in Italia. Altre notizie che riguardano la nostra regione, gli incidenti stradali in Abruzzo, l'Istat dice, nel 2016 diminuiti sinistri, vittime e feriti. E poi corso per agenti di commercio, l'Università di Teramo festeggia altri 44 laureati. Andiamo a vedere la prima pagina del centro di Chieti, Lanciano Vasto, una notizia principale riguarda un episodio accaduto ieri. Capotreno aggredito dai migranti, è successo a Vasto, paura sul convoglio Termoli-Pescara per una ventina di extracomunitari, senza biglietto. E poi vediamo altri titoli che riguardano in questo caso Chieti e provincia, ponti a rischio, no ai camion sull'A14, poi partecipate della Asle, liquidazione ferma da cinque anni. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro, edizione di Teramo, il titolo di apertura riguarda la vicenda dell'Atria, ne ha parlato ieri anche il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi, scattano 55 licenziamenti, partono le lettere, nonostante l'imminente incontro al Ministero, la rabbia del vicepresidente della Regione con delega al lavoro Giovanni Lolli. Andiamo a vedere altri titoli, Teramo, affitti non pagati, Maxi condanna per teleponte, leggiamo in questo titolo dell'articolo di pagina 19, poi all'Aquila, corruzione, scagionati i polisini. Andiamo a vedere anche i titoli che riguardano la pagina di L'Aquila, Avezzano Sulmona del centro, corruzione, prosciolti due imprenditori, appalti all'Aquila, il giudice assolve i polisini, arrestati due anni fa nell'inchiesta Red Rationem. E poi Avezzano, i sindaci si tassano per il tribunale, a Sulmona, gasdotto della Snam, riparte la protesta. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Renzi, priorità a giovani e lavoro. Questi gli argomenti di cui si è parlato ieri nella visita in Abruzzo del segretario del Partito Democratico ed ex Premier. Il treno attraversa l'Abruzzo, incontro con i ragazzi di madre Esther Ascerni di Pineto. L'impegno con gli operai di Atria e della Onuel. Cercherò di salvare i vostri posti, ma come abbiamo visto anche dal titolo del centro, questa mattina partono le lettere di licenziamento all'Atria per 55 lavoratori. E poi Sulmona, il caso del metanodotto al Ministero. E poi Scuola, questo articolo di Spalla, poli innovativi per l'istruzione dei bambini più piccoli. E poi questa notizia che arriva da Pescara, che riguarda questi maltrattamenti sugli aliunni, arrestata maestra, l'insegnante era sotto controllo dopo che i genitori avevano sporto querela. A tal proposito, possiamo aggiungere su questa vicenda che questa mattina alle 11 si terrà presso il comando provinciale di Pescara una conferenza stampa dei carabinieri per illustrare proprio i contorni di questa indagine. E poi Rigopiano, in arrivo nuovi indagati familiari delle vittime ieri dal procuratore, per meglio dire, i legali dei familiari delle vittime. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano La Città. Lo credevano morto, era in carcere. I soccorsi fermati sulla porta di casa dalla moglie. Il banchiere accusato di stalking e violenze. E poi vediamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Città la visita del segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi in Abruzzo. Renzi dribbla le candidature, non ha voluto parlare di politica Matteo Renzi nella sua visita nella nostra regione. Abbiamo dunque esaurito le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Come sempre ora ci possiamo dedicare all'edicola nazionale partendo dal Corriere della Sera, perché anche il Corriere della Sera invece parla di Renzi ma si parla di questioni di Banca Italia e anche di elezioni. Renzi Gentiloni, vedete il titolo, alta tensione, il leader PD su Banca Italia. Il governo sapeva, il premier tuteleremo l'istituto. Partita da Renzi questa iniziativa di sfiducia al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco un'iniziativa che non è piaciuta molto anche ad alcuni esponenti del suo stesso partito. E poi Firenze, questa notizia drammatica che arriva proprio dal capoluogo toscano cede un capitello della Basilica, turista spagnolo muore davanti alla moglie. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Banca Italia, la rivolta segreta del PD, prodi contro Renzi, maldestro. In una chat la lite sulla mozione, mozione presentata da Matteo Renzi proprio in riferimento alla posizione dell'attuale governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. I Dem erano pronti a sconfiggere il governo. Andiamo a vedere la prima pagina del messaggero. Renzi Gentiloni, sale, la tensione, Casovisco, il leader PD, tutti sapevano tutto. La riconferma non sarebbe una mia sconfitta. Sconfitta il premier, ovvero Gentiloni, dice fiducia a Boschi, autonomia. Banca Italia, ipotesi passo indietro del governatore. E poi anche sul messaggero ritroviamo questa drammatica notizia che arriva da Firenze. Spagnolo di 52 anni muore nel crollo di un capitello nella Basilica di Firenze. Poi i conti in tasca al referendum, le tasse non potranno calare, lo dice l'economista Balduzzi. Lombardo Veneto, cifre gonfiate sul residuo fiscale e dal referendum che riguarda le regioni del nord a quello che c'è stato nei giorni scorsi in Spagna, perché Rajoy sospenderà l'autonomia della Catalogna. Inchiesta sui Mossos, perquisita la sede. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Tagli occulti alla sanità per dare la mancetta elettorale ai diciottenni. 2,7 miliardi tolti alle regioni e 1,3 miliardo al Fondo Nazionale. Scrive il Fatto Quotidiano, che poi in alto parla della vicenda a Banca Italia. Vedete Gentiloni ostaggio della Boschi, il rinnovo del governatore. Ora è più incerto la stampa di Torino. Vediamo la prima pagina con gli argomenti trattati all'interno del giornale. Tra le ferite dell'Ucraina in guerra si parla di questo conflitto, di cui invece molti non parlano più. Lo fa invece con questo articolo dell'inviata Francesca Sforza a Kiev, proprio per parlare delle ferite dell'Ucraina in guerra. E poi vedete di spalla, soffocati dallo smog a Torino allarme. Chiudete le finestre nel nord Italia a causa della nebbia e soprattutto del ristagno dell'aria per la mancanza di pioggia e vento. E allarme smog a centro pagina. Gentiloni cerca in Banca Italia l'erede di Visco e dunque potrebbe lasciare il governatore attuale della Banca d'Italia. Rivincita del Cavaliere Euro Berlusconi, l'ex premier, torna al vertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles. La Merkel lo accoglie a braccio aperto, è l'unico argine ai populisti in Italia. E poi vedete di spalla, scontro aperto, Gentiloni cede al diktat di Renzi, il vero premier ormai. E la Boschi scrive il giornale. E invece il Sole 24 Ore parla della manovra, marcia indietro sulla mini patrimoniale per i docenti universitari, dote di 150 milioni per gli scatti. Vedete poi anche su Sole 24 Ore si parla della vicenda a Banca Italia. Alta attenzione sulla riconferma nell'articolo di spalla. Visco, partiti divisi sul bis, Palazzo Chigi, garantita l'autonomia dell'istituto. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Hanno vinto gli evasori, coloro che pagano le tasse sono fessi. Scrive il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. E poi stavolta ragione Renzi. Visco se ne deve andare. Banca Italia ha dormito sulle banche. Dunque Libero è d'accordo con la mozione di sfiducia presentata per il governatore di Banca Italia. Visco. Molti altri invece non lo sono. Renzi, Gentiloni era d'accordo. Il caso Banca Italia, alta attenzione tra i partiti. Il segretario PD all'attacco. Penso ai risparmiatori. Visco ipotesi di un passo indietro. E siamo al manifesto. L'imboscata. Renzi alza il tiro su Banca Italia. Gentiloni resta con il cerino in mano. In alto. Catalogna, autonomia sospesa. La risposta di Puigdemont non soddisfa Madrid. Scatta l'iter per l'articolo 155. Che prevede appunto la sospensione dell'autonomia. Siamo al giornale di Genova. Il secolo XIX. Il governo blinda anche Piaggio Aero. Sia al Golden Power proposto da Pinotti. I sindacati dicono bene così. Il quotidiano della CEI. Avvenire la fine degli alibi. Il dialogo tra sordi porta lo scontro finale. Governo autonomia in Europa. Inizia a cadere il pilastro del primo approdo che pesa sull'Italia. Madrid via al commissariamento della Catalogna. E sui migranti. Primo sì dell'Unione Europea. Al cambio delle regole. Poi anche avvenire. Parla del problema smog nel nord Italia. Bel tempo e polveri sottili. Lo smog soffoca il nord. E poi vicenda di Banca Italia. Renzi tutti sapevano. E trova alleati su visco. Il quotidiano La Verità. La Vergine delle Banche. Questo è il titolo del quotidiano. Diretto da Maurizio Belpietro. Il padre indagato e multato per Etruria. L'ex fidanzato piazzato nella commissione sui cracchi. Intanto Maria Elena Boschi che vedete nella foto briga per far fuori il governatore di Banca Italia. Può accadere soltanto nell'Italia di Renzi. Si scrive il quotidiano La Verità. L'ultimo giornale che abbiamo preso in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale. Già che ci siamo a proposito di quotidiani nazionali. Andiamo a vedere anche le prime pagine dei tre quotidiani sportivi oggi in edicola. Parliamo e partiamo dalla Gazzetta dello Sport che analizza in prima pagina e poi all'interno del giornale le gare di ieri in Europa League. Non è andata bene al Milan. Milan fischiato. Montella pianto greco. Il gioco di parole perché è arrivato lo 0-0 con la formazione greca dell'Eca Atene. San Siro perde la pazienza ed il tecnico perde la quota. Domenica il Milan dovrà battere il Genoa a San Siro per evitare problemi. e soprattutto dovrà vincere Montella per evitare problemi alla sua panchina. Vediamo anche gli altri risultati di questa giornata di Europa League nella serata di ieri. Balotelli balla, poi è festa per la Lazio di Milinkovic. Lazio che passa sul campo dell'Enizza per 3-1 e poi vince con lo stesso risultato anche l'Atalanta a Reggio Emilia con l'Apollon in formazione cipriota. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere dello Sport. Napoli ti batto. Boria Valero ci racconta tutto prima dello scontro al vertice. Giocatore dell'Inter che pensa al sorpasso in classifica. Poi vedete a centro pagina Milan flop brutto pari con l'AiK finisce 0-0. Chiudiamo con tutto sport. Milan a 0 ai Montella. Confusione e sfortuna pari con l'AiK di Atene. E poi Juve sì, Juve no. I tifosi bianconeri si spaccano ottimisti contro pessimisti. I problemi emersi nelle ultime settimane hanno diviso il popolo juventino in due fazioni. Vediamo perché a novembre la squadra di Allegri, scrive tutto sport, può decollare. Noi torniamo ai quotidiani di casa nostra. Ripartiamo dal centro, da pagina 2. Si parla ovviamente del tour del leader PD di Matteo Renzi ieri in Abruzzo. E l'Abruzzo detta l'agenda per Renzi. Renzi tra gli operai dell'Atria di Sant'Atto di Teramo e della Onnueli di Sabili e i vigili precari. Vedete i selfie, quanta gente ieri era presente comunque durante la visita di Renzi nella nostra regione. E poi Ricchetti saluta. Ciao Roseto, i retroscena del viaggio del segretario tra selfie, battute e post su Facebook. Meno incidenti, morti e feriti, il focus Istat sull'Abruzzo nel 2016 rispetto al 2015. Diminuiti i sinistri, meno 5,6% e le lesioni, meno 5% in controtendenza rispetto agli indicatori nazionali, rispettivamente più 0,7% e più 0,9%. In regione calano anche fortunatamente le vittime, meno 9,5%. Andiamo avanti. Sisma, neve e inondazioni, piani di emergenza, 220 comuni sono fuori legge. Questo è il titolo principale di questa pagina. Un dossier del Movimento 5 Stelle svela i ritardi di decine di città e paesi. La denuncia della consigliera regionale Sara Marcozzi, nell'elenco dice spiccano Pescara, Chieti e Teramo. E poi, più in basso, la tutela dei palazzi strategici, tra le novità più ignorate, nuove norme e vuoti a perdere. E poi, agenti di commercio in festa, seconda cerimonia di laurea dell'innovativo corso all'Università di Teramo. Vedete la foto ieri della festa per la consegna dei diplomi di laurea a questi nuovi 44 agenti di commercio. Bufera Banca Italia, scontro su Visco, Renzi all'attacco. È un argomento di cui parlano tutti i giornali nelle prime pagine. E ne ha parlato anche ieri Renzi, non nella visita in Abruzzo, ma in serata in Molise a Termoli. Gentiloni mette al primo posto l'autonomia di Palazzo Koch per Berlusconi controlli carenti. L'ex premier, ovvero proprio Matteo Renzi, dice sorpresine. E dunque ci potrebbero essere novità breve. Renzi ostenta tranquillità, schiera il suo PD tra la gente e non nei salotti buoni e prepara i suoi all'assalto in commissione d'inchiesta. E poi vedete nel governo ancora veleni il premier, ovvero Paolo Gentiloni, blinda la Boschi. Andiamo avanti per andare a vedere le pagine di cronaca regionale. Abbiamo visto dai quotidiani nazionali gli argomenti e i titoli invece che riguardano notizie di carattere nazionale e internazionale. Siamo invece a Pescara, protesta in tribunale. Rigopiano, l'inchiesta verso nuovi indagati. Il procuratore Serpi incontra gli avvocati del Comitato Familiari delle Vittime e assicura il fascicolo sarà chiuso. Entro il primo anniversario del disastro e dunque entro gennaio l'inchiesta sarà chiusa e vedremo poi cosa accadrà. E matrone piomba dalla funzionaria che respinse l'allarme. Il pasticciere è rimasto invalido dopo 60 ore sotto le macerie e va a chiedere spiegazioni e la donna esce in lacrima. Questo è accaduto ieri nel corso del blizzi in prefettura, ma noi ieri abbiamo seguito con la nostra telecamera quello che è accaduto dinanzi il Palazzo di Giustizia di Pescara. Abbiamo avvicinato al nostro microfono anche Gianpaolo Matrone. Andiamo a vedere il servizio. Potrebbero esserci altri indagati nell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano, ma prima occorrerà completare la lettura delle consulenze tecniche. Il procuratore capo di Pescara, Massimiliano Serpi, e il suo sostituto Andrea Papalia, incontrando i legali delle 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola per fare il punto della situazione sulle indagini, hanno rassicurato sull'impegno della procura adriatica che punta a chiudere l'inchiesta prima che ricorra il primo anniversario, il 18 gennaio. Ma per il procuratore la sete di giustizia non può oltrepassare le garanzie degli indagati che saranno ascoltati prima dell'avviso di conclusione delle indagini. Nell'inchiesta, con le accuse di omicidio e lesioni colpose, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, sono indagate sei persone, tra cui il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Al di là del colloquio con la magistratura, resta l'amarezza e la rabbia dei familiari e dei superstiti della valanga. Al microfono di Paolo Renzetti, la testimonianza di Giampaolo Matrone è rimasto sepolto per oltre 60 ore sotto le macerie sotto le quali ha perso la moglie. Matrone, che porta sul corpo e nell'anima i segni di quella tragedia, questa mattina è stato in prefettura Pescara per incontrare chi, lo scorso 18 gennaio, ha ignorato gli SOS da Farindola. Le sue parole sono forti contro chi non ha fatto il proprio dovere. L'ho messa in fila ormai le persone e io quando poi mi pongo un obiettivo le raggiungo. Stamattina siamo andati senza dire niente a nessuno, abbiamo bussato con educazione e con garbo, ho bussato, mi sono presentato, ho dato la mano, quella che per colpa sua una parte ce l'ha pure lei, è l'ESA. Ha fatto un gesto molto brutto anche dandomi la mano perché non se l'aspettava, come per dire oddio che schifo. Gli ho chiesto se mi allacciava la scarpa, lei ha chiamato subito le forze dell'ordine, io con educazione per fortuna che è tutto firmato, gli ho chiesto se mi allacciava la scarpa. L'unica cosa, giornata positiva di oggi è vedere due lacrime finalmente da una persona che ha fatto del male a noi e a tutti i nostri familiari, non solo le nostre lacrime. È ora di incominciare a vedere qualche lacrima di queste persone. Questo è il servizio di Alfredo Primante su quello che è accaduto ieri dinanzi al Tribunale di Pescara. Andiamo avanti, siamo a pagina 19 del centro per parlare di quest'altra vicenda. Con gli schiaffi alla lunna, maestra arrestata, un insegnante di 64 anni, finisce ai domiciliari decisivo l'esposto dei genitori carabinieri a scuola. Questa mattina, come vi dicevo in precedenza, ci sarà una conferenza stampa alle 11 presso il comando provinciale dell'arma di Pescara per illustrare i dettagli di questa indagine. E poi il futuro dei ragazzi, criminologi o agenti dell'antiterrorismo in Emiliaia, al Salone dello Studente, al Porto Turistico, per l'orientamento post-diploma. Oggi la seconda giornata. E poi voi, aspiranti cuochi, siete il futuro del Paese. Renzi in visita all'Istituto d'Alberghiero, elogia il lavoro di insegnanti e studenti. E poi promette, raddoppieremo i fondi stanziati per l'edilizia scolastica. Ieri Renzi è stato a Pescara nel pomeriggio, in mattinata a Scerne di Pineto, alla casa Madre Esther. E poi anche ad Ortucchio, una giornata intensa, quella del segretario nazionale del Partito Democratico. Andiamo a vedere il servizio che fa il punto, che riepiloga proprio la giornata abruzzese di Renzi. Questo è un viaggio, come avete visto, in treno, in ascolto, in dialogo, al lavoro, per cercare di far vedere una politica anche diversa. Non che chiacchiera e basta, sappiamo quanto le chiacchiere della politica romana comunque arrivino anche sul treno, ma per imparare, per prendere appunti. Il freccia bianca destinazione Italia è arrivato puntuale alle 8.36, prima fermata del tour abruzzese del segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, Scerne di Pineto, dove è stato ospite della casa famiglia Madre Esther. Nessun accenno alle polemiche e alle spaccature interne al PD sul caso Banca Italia, né alle candidature abruzzesi per le prossime elezioni politiche di primavera con il governatore che si è sfilato. Attenzione rivolta all'ascolto delle persone e delle problematiche del territorio. Questo sembra essere il mantra della lunga campagna elettorale che solo ha le battute iniziali. La visita ai ragazzi della casa famiglia di Pineto mi ha emozionato a dettorenzi all'uscita della struttura religiosa. E ascoltare non significa soltanto ascoltare le realtà che funzionano, quelle belle, le realtà d'eccellenza, che pure incontreremo anche in Abruzzo che ci sono, ma ascoltare anche il grido di dolore dei bambini, dei ragazzi. La casa Madre Esther è un punto di riferimento per noi importante. Abbiamo imparato tante cose straordinarie. Abbiamo discusso anche delle riforme della legge sul dopo di noi che Don Silvio, il fondatore, aveva in qualche modo anticipato. Abbiamo soprattutto ascoltato le parole dei bambini e dei ragazzi che vivono situazioni di difficoltà in famiglia. Ecco, io penso che la politica sia una cosa seria quando si occupa anche di questi temi qui. Vorrei dire soprattutto di questi temi qui. Oltre al disagio sociale, altro tema caldo che il segretario PD ha potuto toccare con mano scendendo sul suolo regionale è quello del lavoro. Lavoro che non c'è e che sta andando via, come nel caso della Onewell e dell'Atria. Due vertenze, la prima nel Chietino, la seconda nel Terramano, che rischiano di lasciare a casa complessivamente oltre 500 famiglie. Ai lavoratori dell'Atria di Teramo stanno per essere recapitate le lettere di licenziamento, ma le maestranze non vogliono demordere nella difesa del loro posto di lavoro. Probabilmente avremo un incontro il 25 al Ministero e abbiamo chiesto un occhio di riguardo per la situazione dell'Atria, tutto qui. Anche se sappiamo che oggi partiranno le lettere di licenziamento per 55 lavoratori ed è anche un punto di non ritorno per questi ragazzi che usciranno. Il tempo di qualche selfie con i simpatizzanti PD presenti a Scerne e poi il viaggio è proseguito alla volta di Ortucchio, in provincia dell'Aquila, per una visita alla sede di Telespazio. Poi Renzi è tornato a Pescara per parlare di alternanza scuola-lavoro all'interno dell'Istituto Alberghiero De Cecco, un tema caldo al centro delle proteste degli studenti. Siamo venuti qui oggi a Pescara in una scuola, una scuola che ha narrato le proprie eccellenze, sto parlando dell'Ipsar De Cecco, che ha narrato anche le proprie criticità. Il Presidente Renzi sicuramente è stato attento su questo, rivendicando anche l'impegno del suo governo con 4 miliardi di euro messi sul fronte scuole. Quando ci sono queste visite ci sono sempre delle polemiche. Proprio pochi minuti fa è arrivato un comunicato stampa del centro-destra che domani presenterà un'interrogazione urgente in Consiglio Comunale per la pulizia delle strade e delle zone attraversate dal segretario del PD. Lei, Sindaco di Pescara, cosa risponde? Io penso che è veramente squalificante questo atteggiamento a volto sempre e comunque a fare polemiche. Matteo Renzi è una personalità politica di primo piano, i suoi passaggi sono monitorati dalle locali questure e prefetture perché ci sono evidenti ragioni di sicurezza che sovrintendono la vista di un ex primo ministro. Questo vale per Renzi e vale per chiunque altro abbia avuto l'onore e l'onere di essere il capo del governo del nostro Paese. La ricerca delle polemiche a tutti i costi davvero mi, così, la guardo con desolato stupore. Ultima delle quattro tappe abruzzesi, quella di San Salvo, ospite della Pilkington. L'arrivo di Renzi nel sud dell'Abruzzo, dove ha incontrato anche i lavoratori della Onewell, non gli ha risparmiato delle critiche, soprattutto riferite alle misure per il mercato del lavoro varate sotto il suo governo. Andiamo avanti, prima di fermarci per qualche attimo, sempre dalle pagine della cronaca di Pescara del centro. Doppio sì al mercato etnico e la maggioranza si spacca. Ha provato il progetto nelle commissioni lavori pubblici e gestione del territorio, ma nel centro-sinistra riesplode il caso delle liste civiche che non hanno votato. E poi di spalla andiamo a vedere questo altro articolo. alle torri Camuzzi, meeting medico sulle neoplasie e gli aspetti sociali. Proseguiamo, controlli sulle imposte comunali, siamo sempre a Pescara, tassa sui rifiuti, scovati 70 evasori totali. E poi a centro pagina, spigola di 11 chili, catturata dal pescatore sportivo De Tomasis. In basso al Festival della Laicità si parla di web. Proseguiamo, problemi cardiaci, summit di specialisti e medici di base. A Francavilla, convegno domani all'hotel Villa Maria. E invece per la festa dei cinquantenni di Villa Santa Maria di Espoltore, sempre domani ci sarà una cena revival. Francavilla, genitori educatori, lo psicoterapeuta incontra le famiglie. Questa sera al Museo Michetti. Siamo alla pagina di Montesilvano del centro, la circolare contestata. Genitori all'uscita da scuola, ora la protesta si allarga. Dopo la Troiano Delfico insorge anche la media di Villa Verrocchio. Un padre, mio figlio, può tornare da solo, ma la liberatoria è stata rifiutata. E poi il piano sicurezza del comune. Vedete di spalla, turno serale dei vigili urbani per tre volte alla settimana. Proseguiamo. Pagina che riguarda Penne Popoli e l'Alta Val Pescara. Ex Maiella Morrone. Servizi sociali. Protesta per gli stipendi non pagati. I dipendenti della cooperativa Saminad minacciano di scioperare per un giorno. La Fialz pensa ai decreti ingiuntivi. Una lavoratrice dice situazione pesantissima. E poi raccolta dell'Asl di Pescara. Domenica si può donare il sangue e apertura straordinaria dei centri di Popoli e Penne. Moscufo lavori per potenziare gli impianti elettrici. A Santofemmia Maiella arrivano 106 mila euro per la banda larga. Siamo arrivati alla pagina di Chieti del centro, ma possiamo fermarci per qualche attimo. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. In studio per la seconda parte di Mattino 6 siamo alle pagine del centro per quanto riguarda Chieti. Paurola stazione ferroviaria Capotreno aggredito da 20 migranti. Accaduto a Vasto sul convoglio Termoli-Pescara. E poi in mare mille metri di rete abusiva. Blitz della Guardia Costiera all'Arba tra Vasto e Casalbordino. Non c'erano boe. Poi ponti a rischio sulla 14. No ai camion. La società autostrade ferma i trasporti eccezionali del gruppo Tosto. Domani vertice in Regione. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila. L'impianto contestato a Sulmona. Snam riparte la protesta contro il metanodotto. E poi Avezzano abusi su un 12enne pensionato. Rischia il processo. E poi vediamo altre notizie. I lavoratori Olicar oggi si fermano. L'Aquila, CGL, CISL, l'azienda non paga settembre. Tocca l'ASL, blocco degli straordinari. E poi Teramo, Atria, il via ai licenziamenti, il dramma dei lavoratori. L'azienda ieri ha spedito le lettere nonostante la trattativa del 25 ottobre al Ministero. Vedete in primo piano nella foto il vicepresidente della Regione Giovanni Lolli che ha seguito passo dopo passo questa vicenda di cui ha parlato ieri anche il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi nella sua visita nella nostra regione. Andiamo a vedere in basso un altro titolo. Teleponte è una mazzata da 250 mila euro. Il giudice condanna la società editrice per gli affitti non pagati della sede di via Gammarana. Siamo alle pagine dello sport, ma possiamo andare a vedere allora le prime pagine. Invece le pagine interne dell'inserto Abruzzo del quotidiano e messaggero, il treno del PD Giovanni e Occupazione. C'è l'impegno di Renzi. L'ex premier incontra i ragazzi della casa Madre Esther di Pineto. Poi il faccia a faccia con gli operai dell'Atria e della Oniwell. Abbiamo visto il servizio, ne abbiamo parlato in maniera dettagliata anche nella giornata di ieri nel collegamento in diretta che abbiamo avuto ieri mattina dalle 8.30 nel corso di mattino 6 proprio con la stazione di Scerne di Pineto dove è arrivato in treno il segretario nazionale del PD e poi ne abbiamo parlato anche nel corso delle nostre edizioni del telegiornale. E poi la polemica. Il Movimento 5 Stelle dice che non doveva visitare la scuola e poi abruzzesi più prudenti al volante, sempre meno incidenti e morti. Pescara, maratoni in aula su premi di cubatura e recupero edilizio. E poi lo scontro è sul mercatino etnico, maggioranza divisa in commissione in basso. Nove studenti su dieci preferiscono facoltà scientifiche. Blitz dalla funzionaria che negò la tragedia, matrone in prefettura dalla telefonista appena capito chi fossi e scappata. E poi in procura da Serpi e Papalia i legali dei parenti delle vittime. Probabile ci siano altri indagati. Andiamo ancora avanti. Palacongressi, le spine della gestione, l'amministrazione di Montesilvano si divide sulla scelta tra controllo pubblico diretto e affidamento ad un privato. Poi prodotti tipici, sposi e benessere a novembre. Le fiere che assicurano grandi numeri e copertura delle spese. A centro pagina la comunicazione. Social all'esame della Crusca, si apre il festival della laicità, un faro acceso sul mondo del web. In basso, talenti a scuola di musical con i maestri dell'Accademia. E poi l'Aquila, un campus all'ex Caserma Rossi. L'accordo è in dirittura d'arrivo. Centro pagina medicina, procreazione medicalmente assistita. Convegno con il ministro Lorenzin. Poi a fondo pagina, mazzette nella ricostruzione, il giudice scagiona i polisini, trans morto a Roma, Aquiliano patteggia. Ancora l'Aquila, il 5G entrerà nel cuore dei servizi. La sperimentazione aquilana inciderà sulla vita quotidiana tra gli ambiti di azione, la mobilità, la sicurezza e la sanità. E poi welfare studentesco, bignotti, carta dei servizi e anche una tessera. E poi paganica, biondi, massima priorità ai lavori del teatro tenda. Andiamo in basso, istruzione sinfonica. Oggi l'evento per Teleton e poi Horror Festival. Tanti eventi in questa iniziativa che si terrà dal 28 al 31 ottobre. In basso, spettacoli come di dentro, un hotel. Andiamo ancora avanti per arrivare alla pagina di Avezzano Sulmona. Tribunale, Forgillo Randella Colucci, il leader dell'Ordine degli Avvocati, aveva criticato il presidente, ma senza ragione, senza informarlo delle sue iniziative. E poi l'altro fronte, intanto De Angelis, convoca tutti i sindaci. A Scanno, una società campana, gestirà gli impianti. E poi ci spostiamo in Valle Peligni a Sulmona. A Gasdotto il ministero tenta una conciliazione. Il personale ASL, la CGL, chiama in causa. La regione, siamo sempre a Sulmona. Tornando nella Marsica, parte in comune. La rete solidale è sempre in Marsica e ad Avezzano. Santo Maggio incompatibile, parte un esposto. Pagina di Chieti è un'associazione a delinquere, rebellia e altri 36 verso il processo. Truffe e falsi posti di lavoro per avere il rinnovo del permesso di soggiorno. E poi, le città che cambiano. Nuove asfalti e tubature al via i lavori allo scalo. E poi, più in basso, Supercinema, teatro dialettale. Domenica, Numarit da Truvà, questa commedia che si terrà a Chieti. E poi Sanità, invece, tumore al seno. Le donne chiedono più prevenzione. Pagina di Lanciano, Vastortone. Drone precipitato, scattano le denunce. L'incidente lo scorso a settembre al concerto di Dodi Battaglia. Ancora Lanciano, comunicazione digitale con i progetti Erasmus Plus. A Vasto, a Piazzale Smargiassi, spunta il disco orario. Sempre Vasto, portoghesi a bordo sul treno, scoppia il caos. Abbiamo visto anche dalle pagine del centro questa notizia. A Lanciano, scuola civica di musica, nuove prospettive. Poi Ortona, pronto soccorso. Arriva la proroga. Teramo, Atria, altri cinque giorni. Si teme surplus di licenziamenti. Ne abbiamo parlato anche prima e nel servizio della visita di Renzi in Abruzzo. E poi, test nucleare Gran Sasso, la protesta confermata. A centro pagina, l'attore De Caro la consegna delle lauree all'Università di Teramo. In basso, la cronaca si ribalta a GIP dell'Enel. Traffico in tilt sulla Teramo Mare. Poi, biblioteca Delfico d'Alberto dice salvare la memoria storica. Pagina di Giulianova, Roseto e Val Vibrata. Cancello e lampade evotive. Piange il cimitero. Ancora Giulianova, Scarafoni e Mastropietro restano ai domiciliari. L'ex dirigente municipale, i fratelli imprenditori coinvolti nel Blitz Castrum. In basso, a Martinsicuro, nascondeva la droga nel sellino dello scooter. Arrestato un 22enne. Siamo le pagine dello sport. Possiamo anticipare, poi parleremo di calcio in maniera dettagliata dopo, ma possiamo anticipare un servizio importante perché ieri c'è stata l'investitura ufficiale con Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, che diventa il nuovo patrono, il nuovo presidente del trofeo Matteotti, subentra Renato Ricci. Quest'anno la classica diventerà test premondiale e si svolgerà il 23 settembre. Andiamo a vedere il servizio, l'ampio servizio curato da Jacopo Forcella su questo passaggio di consegne per quanto concerne il trofeo Matteotti di ciclismo. Il trofeo Matteotti da oggi ha un nuovo presidente. Daniele Sebastiani, il neopatrone della classica di ciclismo pescherese, che nel 2018 cambia la data spostandosi al 23 settembre. Sarà un appuntamento dunque a ridosso del Mondiale, ad una settimana di distanza dalla Innsbruck sul percorso classico che ha contraddistinto le 70 edizioni precedenti. Sala del Museo dell'Automobile piena per un giorno che segna la rinascita del trofeo. Insieme a Sebastiani, il padrone di casa Renato Ricci, che diventa presidente onorario della manifestazione dopo oltre 20 anni a capo dell'Unione ciclistica, Fernando Perla. Emanuele Ricci sarà il vicepresidente, aspettando gennaio, quando anche Stefano Giuliani, che dovrebbe essere il responsabile tecnico delle prossime edizioni, scioglierà la riserva rispetto alla sua interruzione del rapporto con la Fantini-Nippo De Rosa. L'obiettivo, ha detto Sebastiani, è tornare ai fasti antichi di una corsa che affonda le proprie radici nella tradizione abruzzese e italiana del dopoguerra. Nei prossimi anni ci sarà l'obiettivo di riportare il campionato italiano sulle strade del Matteotti e poi chissà. Presidente, sbagliamo se parliamo di passaggio di consegne. In fondo non è un passaggio di consegne perché Daniele Sebastiani nel trofeo Matteotti e nel ciclismo ci è sempre stato. Sì, ma non è un passaggio di consegne perché per me è fondamentale che sia Renato che Emanuele, ma soprattutto Gilberto restino all'interno con manzioni importanti perché per me e per il gruppo che ho portato dentro è un modo per non far morire una manifestazione importante della città e dell'intero Abruzzo. Solo questo. Però non sbagliamo se diciamo che dal 2018 si vedrà un altro trofeo Matteotti. Se bisogna unire le forze è per fare qualcosina di meglio. Non che negli anni passati non sia stato un Matteotti all'altezza però i pescaresi, gli abruzzesi ricordano un Matteotti diverso. Quindi dobbiamo riportare il Matteotti a quei tempi in cui le strade erano piene e i corridori erano corridori importanti. Daniele Sebastiani è fiducioso sul fatto che da qui a poco tempo si possa ritornare a un Matteotti come agli antichi splendori? Secondo me già dalle manifestazioni del 2018 dobbiamo riportarlo a quei livelli perché sennò significa che non abbiamo fatto nulla. Cambio di data premondiale sarà un appuntamento assolutamente da non perdere anche diverso ciclisticamente parlando rispetto a quello che è stato negli ultimi anni? Certo, purtroppo quando la gara perde di importanza è chiaro che fai fatica a portare i corridori e il fatto di aver spostato la data sicuramente snaturiamo un po' il Matteotti però sarà un motivo di riportare corridori importanti che ci consentiranno di far ritornare il Matteotti ad alti livelli. Penso che questo, io credo che era nell'animo di tutti, che è così, è normale. È un merito che si dà a una persona che, diciamo, merita di portare avanti una prestigiosa manifestazione che dà anche importanza alla persona che lo fa. Ha avuto anche la sensazione che un po' il ciclismo in processi nobbi ha riabbracciato nuovamente? Guarda che chi non ha voluto capire o chi fa finta di non capire per questioni sempre di gelosie perché poi nel ciclismo di gelosie parleremo quando ci incontreremo fra un po' di giorni che parleremo a 360 gradi i 20 anni del Matteotti è normale, il trofeo Matteotti, chi corre in bicicletta, il bambino che corre in bicicletta la sua prima ispirazione è poter correre il trofeo Matteotti è come una prima squadra, come il Pescara può essere per un ragazzo di calcio ma se il Pescara stava in Serie D nessuno ci voleva giocare il trofeo Matteotti se sta in prima pagina è chiaro che il bambino la prima cosa che vuole fare vuole correre in Matteotti, poi magari il Giro d'Italia è naturale, quindi gli intelligenti, perché non è che ce ne stanno molti capiscono che il Matteotti è uno e si identifica con Pescara e l'Abruzzo gli altri, dove si sono fatte certe tappe l'anno scorso, tu lo sai, io no, non lo so E dunque inizia una nuova era per il trofeo Matteotti nel segno però della continuità perché resterà all'interno dell'organizzazione Renato Ricci Daniele Sebastiani presidente, ma Sebastiani nel ciclismo come diceva anche Jacopo Forcella, ci è sempre stato e siamo alle pagine del quotidiano La Città indagine Red Rationem, Polisini, padre e figlio prosciolti da ogni accusa, gli imprenditori montoriesi assolti in udienza preliminare nell'inchiesta sui puntellamenti aquilani andiamo a vedere un'altra pagina il treno di Renzi, Matteo tra bimbi operai, dribbla sulle candidature abbiamo visto prima il servizio, un'altra pagina con le foto anche del collooco io con Suorpina di Casa Madre Estere la prima tappa della visita di ieri in Abruzzo del segretario nazionale del Partito Democratico Cronaca, lo credevano morto, invece era in carcere soccorsi a casa di un banchiere fermati dalla moglie e in cella per stalking e poi cabina elettrica della Cona vedete di spalla il comitato invoca l'atto della giunta proseguiamo la vertenza Atria a proda al Ministero dello Sviluppo Economico incontro con Renzi il 25 ottobre spedizione a Roma dal sottosegretario Bellanova e poi la Delfico penalizzata dalla riforma del Rio lo dice Gianguido D'Alberto capogruppo in Consiglio Comunale a Teramo di Insieme Possiamo Cineteatro, la guerra diventa causa il Comune attiva la procedura per la decadenza della convenzione con la CS e poi secondo mandato Federico Paci rieletto alla direzione del Braga andiamo ancora avanti domani la giornata monarchica dell'Unione Monarchica Italiana presentazione di un libro e convegno per ricordare il Duca d'Aosta e la passeggiata su Roma andiamo ancora avanti con un'altra pagina del quotidiano La Città pagina 13 allarme laboratori ricorso al TAR contro l'esperimento Sox e una delle proposte emerse durante l'assemblea del movimento ambientalista ieri a Teramo la cronaca in basso vedete lunghe code per un incidente all'altezza di Sant'Atto Jeep dell'Enel cappottata sulla Teramo Mare pagina della Val Vibrata castagni minacciati dalla Vespa cinese l'insetto presente da anni nel nostro entroterra non è stato ancora debellato e poi più in basso Martinsicuro abbiamo trovato una città priva di manutenzione l'assessore Tom Molini spiega gli interventi della variazione di bilancio restiamo a Martinsicuro la cronaca nascondeva sotto la droga sotto la sella dello scooter 22enne nei guai e poi Sant'Egidio terminati i lavori di asfaltatura della strada di Paolo Antonio infine Alba Adriatica Viviani respinge le accuse sulla gestione del circolo non c'è nulla da ricostruire con me la sede è stata sempre aperta a tutti siamo alla pagina di Giulianova e di Mosciano partiamo da Mosciano 4 milioni per disinnescare la bomba ecologica di Santa Maria la discarica contestata sarà tombata dopo anni di polemiche e poi Giulianova nuovi sfratti al condominio di Di Gennaro e poi in basso lavori in via Sauro la cementificazione delle piante non ha senso la risposta dell'assessore Gianluigi Corre non convince agronomi e architetti andiamo ancora avanti e pagina di Roseto, Pinetro, Atri e Silvi partiamo da Roseto degli Abruzzi il nuovo piano regolatore non sarà mai approvato in tempo Pavone e Di Marco bocciano le scelte del sindaco su urbanistica, spiagge e tassa turistica in basso il calendario della differenziata realizzato dagli studenti ogni istituto comprensivo realizzerà tre disegni da consegnare alla Diodoro ecologica andiamo avanti siamo già arrivati alla pagina dello sport che in questo caso parla ovviamente del Teramo dell'insostituibile in questo caso Lorenzo De Grazia in Romagna per fare bene il centrocampista torna nel ruolo di Mezzala sono contento le prossime due partite saranno molto difficili la prima sarà domenica prossima le 18.30 a Sant'Arcangelo di Romagna contro la locale formazione che naviga nelle zone basse della classifica e del reduce da un pesante 5 a 0 subito a Bolzano in casa del Sud Tirol motociclismo in Andalusia ultima gara di campionato per Federico D'Annunzio il pilota abruzzese sarà impegnato sul circuito di Gerez della Frontera per l'ultima prova del mondiale Superbike categoria Superstock e andiamo a vedere ora le pagine dello sport del centro e del messaggero partiamo dal centro e partiamo dalla pagina che parla della giornata di Europa League delle italiane fischi a San Siro il Milan bloccato dalla E-Cup finisce 0 a 0 vedete i tre tabellini delle tre partite che hanno riguardato ieri le italiane invece è successo con lo stesso punteggio per Atalanta e per la Lazio l'Atalanta che batte a Reggio Emilia l'Apollon Lazio che passa per 3 a 1 in casa del Nizza che in attacco ha schierato Balotelli andiamo a vedere anche la pagina invece che riguarda il Pescara perché il Pescara prepara l'assalto all'Avellino Zemaniano perché a sorpresa i Biancoverdi vantano il secondo miglior attacco del campionato Novellino è considerato un pragmatico ma in nove gare la sua squadra ha segnato 18 gol e ne ha subiti 17 dunque squadra che segna tanto e subisce anche tanto al contrario il Boemo non è ancora riuscito a trasferire la sua mentalità offensiva ai Biancazzurri vediamo che abbiamo un po' di tempo anche le due squadre a confronto da questo specchietto Pescara ed Avellino 13 punti per entrambe con nove gare giocate tre vittorie per il Pescara quattro per l'Avellino un pareggio solo per la formazione ilpina quattro per il Pescara due capo per i Biancazzurri quattro per i Campani cinque punti in casa del Pescara dieci invece quelli dell'Avellino i punti in trasferta e Pescara ne ha totalizzati otto il team di Novellino tre gol fatti diciassette per il Pescara diciotto per l'Avellino dunque un gol in più segnato dalla squadra ilpina che ha subito diciassette reti tre in più del Pescara che ne ha subite quattordici i due migliori marcatori per il Pescara Pettinari con sette reti per l'Avellino Ardemagni con cinque giocatori schierati 25 dal Pescara 23 dal Lavellino media età dei giocatori 24,9 dunque quasi 25 anni di media per il Pescara 26,2 per l'Avellino e poi le partecipazioni al campionato di serie B 36 per il Pescara 19 per la squadra campana infine sei le promozioni in serie A del Pescara una del Lavellino andiamo a vedere anche le notizie dal Poggio degli Ulivi buone notizie dall'infermeria perché Mazzotta e Coulibaly sono tornati in gruppo e poi vediamo anche il quadro della decima giornata di andata del campionato di serie B si inizierà questa sera alle 19 con il primo dei due anticipi Cremonese e Brescia uno dei derby Lombardi alle 21 al San Nicola il Bari riceverà il Cittadella le altre gare Cesena Foggia Palermo Novara Parma Virtus Centella Pescara Avellino Provercelli Carpi Salernitana Frosinone Spezia Perugia Ternanascoli Venezia Empoli vi ricordo che Pescara Avellino sarà diretta dal signor Chiffi di Padova una notizia che riguarda il medico del Pescara medico sociale del Pescara Ernesto Sabatini che è stato operato all'ospedale di Pescara dopo aver subito un infarto le condizioni del medico Biancazzurro sono fortunatamente in miglioramento e poi tornando a Pescara Avellino il presidente della formazione ilpina Walter Taccone dice mi aspetto una reazione decisa Avellino lo ricordiamo reduce dalla sconfitta casalinga con la Salernitana notizie di mercato per due baby pescaresi della Gladius e la Bricciosa e Sciarretta che sono stati ingaggiati dall'Ascoli andiamo a vedere la prossima pagina di Sport si parla di Serie C del Teramo Asta urla e consigli per tenere sveglio il suo Teramo e poi Serie D Francavilla L'Aquila derby tra Anzi e Acciacchi giallorossi recuperano a Menta e Miciche i rosso-blu sperano di poter schierare Boldrini andiamo ancora avanti pagina di eccellenza le grandi in serie positiva ovvero Chieti e Giulianova Trevisan vai Chieti occhio San Buceto e Angolana Giulianova in attesa del bel gioco si gode il carattere in basso schiaffo all'arbitro 5 anni a Pierleoni dell'Eccese il giudice sportivo punisce l'aggressione di domenica in seconda categoria e il club pagherà le spese arbitrali ritroviamo la notizia che abbiamo anticipato anche prima Sebastiani e Giuliani ecco il nuovo corso del trofeo Matteotti il presidente del Pescara Calcio raccoglie il testimone da Renato Ricci vedete nella foto la stretta di mano e diventa il patron della classica del ciclismo abruzzese un'altra pagina di sport che riguarda anche il calcio a 5 almeno nella parte alta UEFA Futsal Cup il Pescara trova il Barcellona l'acqua e sapone a Eboli per confermarsi in vetta questa sera parte la quinta giornata della Serie A sconto disqualifica a Colini tecnico del Pescara l'allenatore dei bianca dei nerazzurri ovvero dell'acqua e sapone Ricci dice abbiamo qualità e tanta voglia di far bene e poi troviamo le pescaresi sugli scudi nel Carate la Bronieri Argento agli assoluti di Ostia Juniores trofeo italiana Asi Minimoto di Berardino fa incetta di trofei andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero prima di salutarci Pescara ora devi accelerare Zegman cerca conferme in casa contro l'Avellino dopo le ottime prove in trasferta troppi punti gettati via l'Adriatico la vittoria manca dalla prima giornata contro il Foggia in dubbio la presenza di Mazzotta che comunque ha recuperato la Tonsillite le notizie che riguardano il notiziario con appunto il recupero di Coulibaly e Mazzotta contro il Bari questa è un'altra notizia importante si giocherà in posticipo gara che era in calendario per il 12 novembre vista la sosta del massimo campionato per gli impegni della Nazionale gara che non si giocherà però alle 15 come tutte le altre partite ma in notturna alle 20 e 30 tornando a Pescara Avellino nella formazione Irpina non ci saranno Migliorini Lezzerini Squalificati e Gavazzi che è infortunato Novellino attende il recupero di Morosini andiamo a vedere in basso la notizia che riguarda il ciclismo Sebastiani diventa patron del trofeo Matteotti abbiamo visto prima il servizio di Jacopo Forcella vediamo ora la pagina dedicata al calcio di Serie C Teramo vietato sbagliare De Grazia presenta la sfida con il Sant'Arcangelo dobbiamo capitalizzare dice il centrocampista punti per la salvezza e poi calcio a 5 vedete di spalla acqua e sapone ad Eboli Pescara pesca il Barcellona nella Europe Futsal Cup siamo arrivati così al termine questa era l'ultima pagina di sport del messaggero possiamo dunque chiudere qui l'appuntamento di oggi di venerdì 20 ottobre con Mattino 6 che tornerà domani puntuale sempre alla stessa ora io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito e vi rimando alla prima edizione del TG6 come sempre alle 14 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti e buon proseguimento di giornata a tutti e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.